Si indaga a tutto campo per capire cosa ieri mattina ha scatenato l'inferno di fuoco che ha provocato la morte di Concetta Legname, 39 anni, arsa viva dalle fiamme che hanno completamente distrutto l'abitazione al quarto piano dello stabile di Vienovara a Gela, in cui viveva col marito. La procura diretta da Fernando Asaro ha aperto un fascicolo. Le indagini sono condotte dalla polizia agli ordini del dirigente Francesco Marino. Bisognerà individuare attraverso elementi ben precisi da dove il fuoco si è propagato e soprattutto perché e bisognerà anche capire se i soccorsi dei vigili del fuoco sono stati tempestivi o se qualcosa non ha funzionato. Testimoni oculari ieri hanno raccontato che la scala utilizzata dai pompieri per accedere all'appartamento divorato dalle fiamme si è inceppata mentre la donna chiedeva disperatamente aiuto. Intervistato dalla testata online quotidianodigela.it, Salvatore Lauricella, ispettore antincendio dei vigili del fuoco di Caltanissetta, ha riferito che l'autoscala si è bloccata, succede con i mezzi elettronici. L'operatore è riuscito a liberarla con una manovra. Quei due, quattro minuti poco sarebbero serviti a salvare la malcapitata che era già avvolta dalle fiamme. L'autoscala, ha aggiunto, è un mezzo di 15 metri e per nulla agile. Ha avuto difficoltà a recarsi sul posto. Non è stato possibile nemmeno usare il telone di salvataggio perché in Sicilia ne esistono solo tre, ha riferito ancora Lauricella. Sono dislocati a Caltanissetta, Palermo e Catania. Noi dobbiamo garantire le emergenze nella zona di Agrigento, Caltanissetta, Enna e nei vari distaccamenti. Di certo non ci sarebbero stati i tempi tecnici per sollecitare l'arrivo di un telone di salvataggio. Avrebbe impiegato almeno un'ora perché da Caltanissetta viene trainato con un fuoristrada. Sarebbe stato perfettamente inutile portarlo, altrimenti, continua Lauricella, lo avremmo richiesto. E ieri sera, nella stessa abitazione, teatro del mortale incendio, si è riacceso un altro focolaio subito spento dai pompieri. Intanto, il corpo di Concetta Regname è stato trasferito all'obitorio del cimitero Farello in attesa delle disposizioni del magistrato sull'autopsia che probabilmente sarà eseguita lunedì prossimo.